È un avversario, secondo me, ovviamente ostico arrivato in finale. Sono lunghi, giocano molto bene, ma noi dobbiamo continuare così come stiamo facendo. Ci troviamo qui nell'Arena Quattropalme. Tu da Rosetano, rosetanissimo doc, non potevi scegliere location migliore per passeggiare un po' per spolverare vecchi ricordi in attesa della finalissima. Che settimana sarà soprattutto quell'attesa della finale, anche perché qui l'ambiente si è riacceso e tanto? Sì, ovviamente questo è un posto dove ho passato gran parte delle mie giornate, soprattutto da piccolo. Sarà una settimana di duro allenamento, di concentrazione, di preparazione a questa partita che ci aspetta. Dobbiamo, come ho detto prima, continuare ad allenarci come stiamo facendo e non abbassando mai il livello. Allora, Nardoghe è formazione che dal punto di vista offensivo è molto importante per la categoria. C'è anche un ex, Nicolo Petrucci, che ha giocato qua otto anni fa. C'è Mauro Stella, c'è Marcello Dip, squadra anche esperta. Roseto però dall'altra parte è in un momento ottimo e viene soprattutto da dieci vittorie consecutive. Sì, sono una squadra lunga, se non sbaglio sono nove giocatori, però secondo me noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a chiuderci in difesa, a lavorare in difesa come stiamo facendo, aiutandoci uno con l'altro, perché sono una squadra offensivamente importante. E ovviamente in caso di successo sarà la tua prima volta di vittorio campionato qui in Roseto, da Rosetano Doc. Certo, certo, però dei compagni squadra molto scaramantici, quindi noi pensiamo a domenica, pensiamo a una partita alla volta.